Pasquale Cordoma si è dimesso dall'incarico di sindaco di Montesilvano. La notizia è stata confermata da una nota scritta dallo stesso primo cittadino in serata. Questo è un ampio estratto del lungo comunicato. Ritengo doveroso rassegnare le mie dimissioni e fornire la verità di quanto accaduto oggi in Consiglio Comunale dopo aver consultato il capogruppo del mio partito Luigi Marchegiani e il capogruppo del Udc Walter Cozzi. Il Consiglio Comunale era chiamato a ratificare gli equilibri, ovvero l'atto che dopo tre anni di lavoro fa rientrare Montesilvano nel patto di stabilità, avviandolo alla seconda parte della legislatura, al rilancio degli investimenti e ad un alleggerimento della pressione fiscale. Nel corso della votazione tre consiglieri del PDL, i cosiddetti ribelli di area finiana e il consigliere dell'Udc Oscar Obiferi, con la sorprendente astensione del Presidente del Consiglio Vittorio Catone e l'assenza inaspettata del consigliere di rialza di Abruzzo, hanno votato con i consiglieri di centrosinistra impedendo l'approvazione della delibera. Prendo atto di un evidente dato politico che porta i consiglieri di centrodestra a votare con le forze di opposizione e quindi a far venire meno una maggioranza politica di centrodestra del Comune di Montesilvano, avendo in questi anni duramente lavorato per conseguire gli obiettivi di risanamento del Comune e delle sue aziende partecipate. Ho già avvisato Sua Eccellenza il Prefetto di Pescara, che domani incontrerò per rispetto dell'istituzione, delle mie dimissioni, scelta indispensabile per non scendere a compromessi né essere vittima di giochi di palazzo. Sono stato chiamato a governare la città e credo di averlo fatto al massimo delle mie potenzialità. Se non mi è possibile concludere il lavoro nel tempo che resta alla consigliatura, preferisco ridare voce all'unico giudice che un politico ha, oltre alla sua coscienza, i cittadini di Montesilvano. Tengo infine a precisare che non vi è nessuna giustificazione amministrativa nel non votare gli equilibri di bilancio, atto che affermo essere stato collezionato perfettamente e che avrebbe garantito ulteriormente il risanamento della città.